Ma che ci combina sto bitcoin? Che ci combinano sti mercati? Doveva essere tutto to the moon, si tagliano i tassi, deve salire tutto. E invece abbiamo parlato in qualche video precedente, in particolare quello di ieri, se te lo sei perso, guardatelo, te lo linko qua sotto, abbiamo parlato proprio di come funzioni il taglio dei tassi di interesse e soprattutto comprendere non tanto l'azione in sé, ma comprendere l'azione come risultato di un qualcosa, cioè tagliamo i tassi perché l'inflazione è alta e perché l'economia sta rallentando. Andiamo a tagliare i tassi per andare a incentivare l'indebitamento e lanciare, quindi prepararci per uno slancio nuovo, è un nuovo bull, è tutto quello che vogliamo. Eh ma la ciclica di bitcoin dice che il 2025 sarà l'anno migliore di sempre. Sì, va bene, ma dobbiamo fare delle considerazioni. Sto facendo tra l'altro un po' di sondaggi sul canale per capire diverse cose, penso che sia uno strumento molto utile per analizzare effettivamente che cosa pensa il retail di determinati concetti. In particolare vediamo che chiaramente la preferenza è ancora su bitcoin come coin, vediamo un pochino qua. Parlavo quattro giorni fa dell'annuncio di Powell sul taglio dei tassi di interesse che è stato confermato, vediamo che la maggior parte di persone, un 56%, credeva fosse un segnale positivo, mentre solo una parte, un 44%, comunque già molto distribuita, pensavo fosse più alto il positivo to the moon, vediamo che invece ha letto in termini negativi il taglio dei tassi, quindi probabilmente ha visto qualche video in cui ne parlavo. Tendenzialmente il taglio dei tassi di interesse porta sì ad un aumento repentino del prezzo, come effettivamente c'è stato, ma poi successivamente si sgonfia la FOMO e inizia a partire quello che è lo scenario reale, cioè uno scenario a ridosso di una recessione, perché parliamo di questo, parliamo di questo, c'è altro che analisi ciclica, dobbiamo anche studiare un po' di macroeconomia per capire cosa succede. Vediamo invece tre giorni fa, quindi il mercato aveva già iniziato un pochino a stornare, che la maggior parte di persone, un 38%, anzi in realtà un terzo delle persone, si aspettava un calo imminente nel mercato sia azionario che cripto, quindi un'altra buona parte, diciamo la maggioranza, una quota è spartita su si scende, quindi un sentimento ribassista, dall'altra parte c'è incertezza, solo un 23% crede appunto che ci sia un bull potente, quindi questi dati sono sicuramente molto interessanti. Ho poi pubblicato l'annuncio di Bank of America, che è proprio due giorni fa, e no ma Stefano ha detto che il taglio dei tassi, recessione, sono cavolate, il taglio dei tassi pump to the moon. Diceva Bank of America un po' di giorni dopo quelle che sono state le mie considerazioni a riguardo. Il team strategico Bank of America consiglia gli investitori di vendere le proprie azioni quando la fede e la riserva abbasserà i tassi di interesse per la prima volta. Questa raccomandazione si base sulla crescente probabilità di una significativa recessione economica negli Stati Uniti. Stiamo parlando di questo ragazzi, stiamo parlando di recessione. Vediamo poi un giorno fa il mercato era già ovviamente ultra in rosso e si sale solo un 43%, si scende un 57%. Quindi si è ribaltata la situazione, molti adesso hanno iniziato a propendere per un calo. E questo secondo me è estremamente importante da comprendere. Perché effettivamente leggiamo dietro le righe che cosa? Uno, il fatto che la maggior parte di persone siano fortemente influenzate dall'andamento del mercato. Perché con un mercato che saliva nessuno va a scommettere contro, a parte il sottoscritto dicendo guarda che molto probabilmente si scende, almeno per un breve periodo, almeno qualcosina già nell'immediato. Perché si crea paura, si crea food, è normale, siamo sull'orlo della recessione e per comprenderlo bisogna solo leggere i dati finanziari statunitensi. Non è che bisogna essere i geni di Wall Street. In quel contesto pochi si mettono a scommettere contro. Dall'altra parte cosa succede? Succede che i mercati iniziano a scendere, allora tutti vanno in food e iniziano a scrivermi devo vendere, cosa devo fare, come funziona, oddio, scenderà ancora, ricomprerò più basso. Considerazione che esce fuori da questo il fatto che si è ancora fortemente inclini a seguire quello che dice il mercato, piuttosto che essere noi a dire, tra virgolette, cosa farà il mercato. Nel senso che dobbiamo essere noi a muoverci di conseguenza. Come dice il buon vecchio Warren, che ormai avrà 93-94 anni, quanti ne ha lui, non lo so, e che quindi diciamo che ha un trascorso per poter aprire bocca, quantomeno, dice che bisogna essere avidi quando il mercato è spaventato e bisogna avere paura quando il mercato è avido. In questa fase il mercato era estremamente avido, era molto alto, che non vuol dire che da qui a breve non si possa risalire, però bisogna fare appunto delle considerazioni che faremo adesso insieme. Partiamo un attimo dal flow degli ETF. Vediamo che il flow gli ultimi giorni, quindi partiamo da 1 agosto, 2 agosto, ci sono state delle uscite, in realtà lato blackrock delle entrate, però il netto è stato relativamente in rosso. Vediamo che comunque dal 17 luglio ad oggi è stato abbastanza positivo, infatti il mercato si era ripreso e più negli ultimi giorni che ci sono stati dei deflussi importanti. Dobbiamo vedere effettivamente come andrà a partire da questa settimana, perché questa settimana ragazzi è decisiva per tanti punti di vista. Vediamo anche giusto per completezza sugli ETF di Ethereum, ovviamente Ethereum non può andare benissimo, primo perché Bitcoin non sta andando benissimo, secondo perché comunque abbiamo ancora l'ombra, come possiamo vedere qua, di grayscale. Quindi c'è un bel po' di roba da andare a dampare. Quindi se tu metti questo, ci metti pure uno scenario relativamente ribassista, eh la madonna! E mi chiede un casino, insomma, è normale, no? Ci sta, bisogna essere consapevoli. Vediamo i grafici. I grafici sono molto molto importanti. Parlano da sé, direi che potrei chiudere qui, si vede molto bene, no? Quello che abbiamo detto. Questo, questo bel calo qui, questo bel inciampo, che adesso lo andiamo anche a quantificare, ma penso sia tipo un 17-20%, credo. Prendiamolo proprio dal top, top, fino al bottom. Siamo a meno 30% addirittura, con un calo di 20.000 dollari, 20.000 e 9, quindi 21.000 dollari circa. Questo è un bel calo. Questo inizia a piacermi. Mi ricordo ancora quando si vedevano queste robe qui. Oddio, crolla tutto, moriamo tutti. Raga, questo è un calo. Questo è un signor calo. Questo mi piace. Un bello sconto. Siamo tornati, tra l'altro, a rimbalzare in quest'area. Se ti sei perso le precedenti analisi del lunedì, erano le aree che stavamo guardando. Quindi in queste aree qui. Mi aspetto magari un po' di lateralizzazione, sì. A meno che non ci sia una ripresa B, più o meno come c'è stata in queste fasce. Anche se inizia ad essere un po' più deboluccio il mercato. Quindi bisogna contestualizzare, bisogna capire. C'è anche da dire questo, che si inizia a intravedere. Togliamo questo. Si inizia anche a intravedere questa cosa qua. Tac. O meglio, si intravedeva questa cosa qua. Quindi fin tanto che ci manteniamo sopra questo livello, quindi 5860k, le chance che si torni su sono relativamente alte. Ovviamente con questa rottura ulteriore a ribasso, andando a siglare di nuovo dei nuovi minimi relativamente bassi, perché... Adesso quanto è sceso? Andiamolo a vedere subito. Siamo scesi come minimo a 48009. Era da... Cos'è? Da febbraio che non tornavamo su questi livelli. Ci siamo fatti un bel movimentino, eh, qua. Non è proprio uno scherzo. Le altcoin, vabbè, io ve le apro, ma giusto per completezza, ma è inutile che andiamo a vedere. Insomma, una caporetto. Disastro, disastro, disastro totale. Altcoin sottoterra. Abbiamo l'azionario, che non è che se la passi proprio splendidamente. Questo è il nostro caro Bitcoin. Ovviamente si segue Bitcoin. Cioè, è inutile che stiamo a parlare di alt-season e cose varie. Bisogna guardare Bitcoin. Che cosa leggiamo su Bitcoin? Uno, l'interesse. Apri Google Trend, cerca Bitcoin e BTC come termini di ricerca e vedrai che sono ai minimi, dei minimi, durante i bear market. Quindi stiamo parlando di... Nessuno si sta cagando minimamente Bitcoin. No, God! No! No! Se non gli istituzionali. Che stanno, come abbiamo visto, acquistando. Gli istituzionali sono quelli che hanno portato il prezzo, giusto per avere un'idea, da qua a qua. Perché questa roba qui è istituzionale. Sono cash che hanno tirato fuori BlackRock e company. Questo può essere un target, quindi, che andiamo a recuperare. Guarda caso. Quindi potremmo tornare su quello che è il livello effettivo, non sovrapprezzato, di Bitcoin. In questa fase. Che ci può stare? E basso, certo, ragazzi. Non è che può andare sempre tutto su. Cosa importante? Vediamo se recupera quest'area qui. Perché se mi va a recuperare quest'area qui, effettivamente, come vediamo, siamo ancora, eh? Cioè, ci siamo. Siamo ancora in quest'area. Qui è possibile che ci sia un ulteriore rimbalzo. Tornare ai 68, rompere e farsi un giro agli 80. Io ti mostro quelli che sono i vari scenari. Positivi e negativi. Il negativo, inutile che ce lo raccontiamo, è questo, no? Si torna a lavorare su quest'area, tra i 40 e i 48k. Quindi questa è l'area disegnata per, come supporto, in caso si scenda ancora. A rialzo è questa qui. Quindi portare agli 80k. Ci mantiene questa trendline, ok. Spacca, torna su a toccare i massimi, sì. Possibile che rompa. E vada poi a creare la bull flag, tutto quello che vogliamo. Perché poi molti mi disegnano questo, mi parlano di questo. È possibile, sì. È possibile quando, come e perché. È possibile se comprendiamo quelli che sono gli scenari. Gli scenari sono elezioni a novembre. Powell ha affermato che ci sarà il taglio, ma non ha quantificato di quanto, come e tutto il resto. Tassi di disoccupazione è relativamente alto. Taglio dei tassi implica che probabilmente siamo vicini a una recessione. Di quanto vicini? Secondo me molto. Secondo me il 2025 sarà un anno di recessione. Non sarà l'anno fantastico di bitcoin. Magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Ma col senno di poi vedremo cosa succederà. Abbiamo questo. Abbiamo un tasso di disoccupazione in crescita, ma non così elevato. Da giustificare un callo di questo tipo. Abbiamo una situazione tesa. Iran, possibili guerre, possibile attacco. Sì, anche se ci sono le Olimpiadi, magari non si sbilanciano in questo momento. Vedremo poi. Abbiamo le elezioni. Eh, cacchio, però Trump ha detto che è bellissimo, tutto fantastico. Sì. Questa mattina, sto mettendo il mio plan per assicurare che gli Stati Uniti sarà il capitolo cripto del mondo e il superposto del mondo. E ci siamo arrivati a fare. Se cripto sarà definire il futuro, voglio essere minato, mintato e made in gli USA. Trump ha detto, ha fatto, ma ad oggi Trump è una persona come me, non è presidente, non è un bel cacchio di niente. Quindi prima diventerà presidente, poi passeranno un po' di mesi, se non un annetto, prima di attuare quelle che sono le politiche e quindi se ne riparla magari per il 2025-2026, fine 2025-inizio del 2026. Ammesso e non concesso che venga eletto e tutto quello che vogliamo. Cioè non possiamo basarci nelle nostre analisi su quello ha detto così, Michael Saylor ha detto che andremo to the moon. Nì. Cioè non stiamo a sentire questo. Stiamo a vedere cosa succede. Lo scenario è molto semplice. I tassi sono stati alzati nel tempo per cercare di contenere l'inflazione, verranno essi tagliati per ristimolare l'economia perché nel frattempo c'è stato un rallentamento. I mercati sì sono esplosi, certo, ma il problema è che la liquidità è questa. La liquidità, come vediamo, è in calo. Il mercato ha fatto questo, ma la liquidità è in calo. E quando la liquidità cala, cosa succede? Succede che si crolla. Questo è il grafico di Bitcoin. Vediamo la liquidità che cala, vediamo Bitcoin che crolla. In quest'ultimo periodo la liquidità è continuata a scendere. Eppure, noi che cosa abbiamo avuto qua? Abbiamo avuto una salita. Perché? Perché? Questa è la domanda. Perché? Adesso è inevitabile che inizia a salire la liquidità, certo. Si andranno a incontrare, andranno a trovare una via di mezzo. I tassi verranno abbassati. Quando si raggiungerà la soglia interessante del tasso come abbassamento, allora ripartirà l'economia. Questo è quello che vedo io. Ci sono ancora possibilità che Bitcoin faccia il suo pump? Le possibilità ci sono, come abbiamo mostrato qua su MEXC. E tra l'altro chi si chiede dove stiamo lavorando, stanno lavorando su MEXC proprio perché ha delle commissioni estremamente basse per chi vuole fare trading. Vediamo 0% per il maker. Lo spot idem, quindi vuoi acquistarti Bitcoin in questa fase? Vieni su MEXC, te li acquisti spot e paghi niente. Poi te li prelevi su hardware wallet, te li porti dove preferisci. Qua sotto ti lascio il link di MEXC in descrizione. Al di là di questo, in questo scenario qui, anzi andiamo a disegnare meglio, in questo scenario qui è possibile vedere quel rimbalzo. Secondo me tenderemo a tirare a campare fino a novembre, quindi quando ci sono le elezioni presidenziali. Anche perché è difficile che si permetta che i mercati vadano giù, tanto giù, con le elezioni di mezzo, no? È una cosa relativamente complessa. Non vuol dire che non succeda, per carità, però è relativamente complessa, perché significa mostrare crisi durante le elezioni. Vuol dire che il vecchio presidente, abbiamo detto già Biden, si ritira, ma ci sarà qualcuno per il partito che lo succederà. Nel caso non si può andare a mostrare debolezze o tutta una serie di cose in questa fase. In questa fase bisogna essere forti, ok? Perché altrimenti è un attimo che si sceglie per cambiare. Quindi è molto difficile che durante la fase di elezioni i mercati crollino drasticamente. Anche se vediamo i prezzi che stanno crollando belli pesanti. Adesso siamo a 52.300, ora che sto registrando. Quindi stiamo di nuovo andando a ricoprire questo gap. Ci troviamo esattamente su questo supporto. Quindi siamo esattamente lì. Vediamo, è lampante, proprio qua. Ed è lì che ci stiamo muovendo, stiamo lateralizzando un pochino in questa fase. È chiaro, ragazzi, che il mercato è questo. Ora, chi si è, seguendomi passo passo, quindi quando dissi, cos'era inizio anno, penso, o giù di lì, io inizio a tirar fuori qualcosina. Giusto quando Bitcoin mi ha fatto questo, ecco, vediamolo, era il 3, quindi marzo, era più o meno marzo, aprile, quando ho detto, io inizio a tirar via roba dalle altcoin, le braso, mi porto poi in tasca dei profitti e poi mi riposiziono pian piano. Mi sono poi riposizionato pian piano con parte dei profitti in queste fasi. Quindi ora sono in perdita su determinata altcoin. Assolutamente sì, sarò meno 50, meno 40 di media su quelle speculative, però ho meno 40 fatto su che cosa? Su un gain che ho già messo in tasca. Perché? Perché non ho la presunzione di fare il timing del mercato. Non si può fare timing del mercato, non si può avere l'idea, io comprerò il bottom assoluto e venderò il top assoluto. No, io mi sono preparato per tempo, con i miei piani d'accumulo, con i miei bot di ribilanciamento, con le mie cose, il mercato si è mosso, le altcoin mi hanno performato, ho visto che avevo in tasca dei buoni gain, chiudo, se poi sale ancora, non me ne frega niente. Ma perché questo, in questo momento, rispetto che nel passato invece sarei stato di più sul mercato? Perché ragazzi, i dati macroeconomici fanno cagare. Abbiamo stampato millions and trillions and billions di trillions, come se non ci fosse un domani, e ora cosa vogliamo? È normale che si vada di fronte a una recessione, no? Tutto è pompato, l'inflazione usa le stelle, è normalissimo che si vada incontro ad una recessione, o qualcosa di simile. Poi quanto sarà pesante, se la scongiureremo, se invece sarà catastrofico, chi lo sa, chi lo sa, chi può saperlo, nessuno, non lo so io, non lo sa neanche il miglior analista di Wall Street. Quello che però so, è che in questa situazione, limitarsi ad un'analisi ciclica, secondo me è dannoso. È dannoso perché ci facciamo male, non possiamo stare lì a tracciare grafici, linee, quando poi fuori sta prendendo fuoco tutto, no? Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo andare a soppesare bene le informazioni. L'analisi fondamentale, si chiama fondamentale, non perché non volevano chiamarla Pippo, ma Pippo faceva schifo, l'hanno chiamata fondamentale, no, si chiama fondamentale perché cazzo è fondamentale, quindi è un'analisi fondamentale. L'analisi fondamentale dice che in questa fase stiamo andando in recessione. Se la scampiamo, non la scampiamo, il tempo ce lo dirà, però comunque sia, si parcheggia liquidità. I big player parcheggiano liquidità. Perché? Perché recessione è uguale crollo dei prezzi. Si rientra con l'inflazione, si sgonfia la bolla e ci sono ottime opportunità d'acquisto. In queste fasi diventa fondamentale quindi avere del liquido parcheggiato. Quando dissi tempo fa io mi tengo un 50% adesso, eravamo qui quando l'ho detto. Vai a cercarti i video passati, eravamo qui. Ho detto ok, da adesso mi riporto un 50% cash con interessi, tutto quello che vogliamo, ma ritorno con un 50% cash almeno e il resto me lo tengo qua pronto per vedere cosa succederà e ricomprare a prezzi più bassi. Attualmente sono ancora 50% cash. Ho iniziato a accumulare qualcosina, ho preso qualcosina qua e là, ma ancora devono scendere i prezzi. Cioè è qui, queste sono le aree che interessano a me e queste sono le aree che interessano a me. Quindi un 50% cash ce l'ho ancora. Altcoin, inutile dire che lo asfaltate, ma perché tanto sono tutte, vai a vedere, su CoinMarketCap, meno 40, meno 50, meno 60, meno 80, meno 90, di che stiamo parlando? Questa è la situazione, cioè è inutile che ce la raccontiamo. Lato azionario, lato azionario sarò più o meno investito con un 30% più o meno del capitale. Quindi il restante 70% l'ho già portato via, ce l'ho già in cash. Perché questo? Perché sono entrato in modalità difensiva. È importante comprendere una cosa, che due sono gli scenari. Il mercato o sale o scende. Ora, se io sono totalmente investito e il mercato scende, io perdo tutto e non ho quantità di liquidi per andare a ricomprare a prezzi più bassi. Questa è la prima cosa e direi che è lampante, no? Dove bisognerebbe posizionarsi. Due, io sono parzialmente investito e il mercato, perché credo che il mercato scenda, ma in realtà il mercato sale. Qual è la cosa peggiore che mi possa succedere? La cosa peggiore che mi possa succedere, se sono parzialmente investito e il mercato sale, e beh, è che ho sacrificato del gain. Potevo guadagnare molto di più e ho guadagnato di meno. Ma ho comunque guadagnato. Sporchi piccoli ma buoni. Va bene. D'altra parte, ho poco capitale investito, il mercato scende. Cosa succede? Codo come un riccio. Perché? Perché ho la liquidità per ricomprare a prezzi più bassi. La gente svende perché è andata all in e io compro. Io compro perché sono stato premuroso e mi sono tenuto liquidità da parte. Ecco perché affronto i mercati sempre con pazienza e sempre tenendomi della liquidità da parte. Che vado a gestire in base a com'è e il mio sentimento sul mercato. Ovviamente in pieno bull, magari di liquidità, non mi tengo il 50% ma mi tengo il 30%. Ma è pur sempre un 30% di liquidità. In bear market potenziale sono molto più liquido piuttosto che essere investito. Quindi magari è un 60%, un 70%. In situazioni instabili come queste qua mi tengo un 50%. 50-50. 50 ce l'ho investito, 50 ce l'ho fuori in cash. In questo modo io ho la liquidità parcheggiata e posso far fronte al resto. Consapevole che quell'altro 50% che ho investito non è del mio portafoglio totale. Non è che se ho un milione in banca prendo e 500.000 li metto sul mercato e gli altri 500 li tengo fermi e quei 500.000 se li perdo mi dispero. No. Ho una quota che dedico agli investimenti. Quindi se ho un milione magari agli investimenti dedico 100.000 200.000 un 10 un 20% agli investimenti resto è già cash di questi che dedico agli investimenti io una parte me la tengo parcheggiata per comprare e una parte la tengo investita e vado a modularla in base a che cosa? In base a come si muove il mercato. Questa è la mia strategia. In questa fase personalmente sono in modalità difesa. quindi cerco di difendere i profitti fatti li ho realizzati ho venduto altcoin ho venduto cose li ho già realizzati ma cerco di difenderli con che cosa? Tenendomi della liquidità e preparandomi per comprare e preparare il terreno per il prossimo slancio perché è questo che ci interessa a noi. Bisogna essere sempre a giocare d'anticipo bisogna sempre prepararsi nel tempo per tempo comprendendo che se vogliamo investire i prezzi a volte salgono a volte scendono. Io non devo avere la presunzione di cercare di prendere sempre il prezzo più basso e rivendere al prezzo più alto ma devo avere la sacra santa santissima pazienza di mettermi lì comprendere quali sono i miei limiti comprendere quali sono le mie potenzialità comprendere con quanto espormi in che modo quando e perché se a monte faccio questo lavoro sti movimenti qui non mi fanno nulla non me ne frega niente so che a seconda di come si muove il mercato io mi comporto di conseguenza se non sei sovraesposto non ti dovresti preoccupare se ora ti stai chiedendo se devo vendere cosa devo fare è perché sei sovraesposto e quindi non hai il fegato in questo momento di rimanere lì con le tue posizioni salde e devi svenderle perché ti serve la liquidità perché ti sei sovraesposto perché tu magari guadagni 20.000 euro 10.000 15.000 quanti guadagni di stipendio all'anno e cosa fai? investito tutto full no o magari hai investito 5.000 euro sul mercato nonostante ti sia stato detto investi quello che sei disposto a perdere che vuol dire che se lo perdi non devi rompere le palle e ora ti trovi in questa situazione e hai paura di perderli il problema è a monte manca strategia manca consapevolezza e hai tappato le orecchie quando ti è stato dato il consiglio perché sei tutta la liquidità impegnata sei già all in non puoi fare altro che aspettare se non sei all in allora aspetti piazzi qualche target qua e là che ne so te ne piazzi uno qua te ne piazzi uno qua te ne piazzi uno qua e vai piano piano a riposizionarti con qualche cipino qui e lì e ti vai a preparare lo slancio per chiudere se no il video diventa sono 28 minuti vedo qua diventa troppo lungo la situazione è quella che abbiamo detto si può salire come si può scendere ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo bisogna comprendere però una cosa importantissima e la cosa importantissima è se viene eletto Trump abbiamo comunque un anno di tempo quindi tutto il 2025 verosimilmente per andare a sistemare queste cose quindi chi mi dice che il 2025 sarà l'anno più bello di sempre per bitcoin io mi aspetto un anno di recessione poi magari i dati cambieranno e quindi adatterò la mia analisi ma io mi aspetto una recessione o presunta tale magari non la chiameranno recessione ma di fatto sarà la recessione come l'inflazione l'inflazione al 7% sì ma intanto le cose sono aumentate il 40 del 50% e questo è il senso che la chiamano recessione la chiamano recessione i risultati per me sono quelli detto ciò in questo scenario può aver molto senso prepararsi anche perché magari Trump se viene eletto sistema un po' di cose sì probabilmente si ridurrà un pochino il debito pubblico probabilmente si andrà a ricontenere l'inflazione tra l'altro darà la colpa ovviamente a quello che è successo prima quindi il governo precedente perché funziona sempre così e quindi ci sarà un po' di tempo per risistemare rifar ripartire le economie e tutto e mi aspetto che riparterà poi col botto però quindi faremo sì the big gain magari si trasla 2025 diventa il 2026 chi lo sa chi può dirlo magari sbaglio totalmente quello che sto dicendo va benissimo tanto a me che dico la cosa giusta dico la cosa sbagliata ho comunque un piede ancora nel mercato e un piede fuori dal mercato in ogni caso se vai in su fantastico guadagno con quello che ho ancora dentro e mi accontento se va giù chi se ne frega uso quel piede che ho fuori per rientrare gradualmente dentro quindi in ogni caso io vinco non me ne frega niente io vinco comunque in ogni caso perché mi sono preparato per difendermi a meno che non ci sia un collasso gigantesco cioè guerra nucleare e scenari più apocalittici del mondo è chiaro in quel caso penso ma questo penso di parlare a titolo di tutto l'universo penso che quanto stia apple o microsoft o tesla o bitcoin ce ne può fregare di meno cioè in uno scenario di crisi veramente crisi vera con guerre e cose varie penso che a me non freghi nulla di quanto mi sta l'azione di quanto mi sta bitcoin quello che mi frega è che devo portare il cibo in tavola devo mangiare e devo cercare di non farmi bombardare no? giusto per andare a soppesare le cose tralasciando questo tipo di scenari tenendoci con i piedi per terra quindi lasciam perdere cigni neri enormi manteniamoci su cose relativamente base come appunto queste qui mi aspetto da qui a novembre ancora lateralizzazione bitcoin che scende un po' che sale magari si farà un tentativo magari settembre ottobre di riaggredire i massimi quindi tornare a 68 70k andare massimo a colpire gli 80k e non so chi si ricorda l'anno scorso prima dell'halving quindi che dicevo secondo me questo ciclo ce lo andiamo a sparare sugli 80k come target 70-80k e questo è il motivo cioè il motivo per cui dissi questo era qui il fatto che siamo comunque a livello macroeconomico non è una situazione bella cioè è facile sparare tu che mun 100 milioni 200 milioni 120 mila 150 mila sì le cose si adattano le cose mutano le cose cambiano e quindi bisogna mutare con esse comprendendo comprendendo che si analizza a livello fondamentale non a livello tecnico il tecnico lasciamolo a chi fa dei trading chi investe chi si posiziona a long term deve guardare i fondamenti economici e deve guardare anche i fondamenti dietro gli asset perché se abbiamo scelto di comprare bitcoin c'è un motivo c'è un motivo ricorda sempre che io adesso magari compro 50 mila bitcoin e fatti questa domanda e se scende a 40 mila e se scendesse a 30 e se poi scende a 20 e se scendesse a 10 cosa succede cosa fai inizi a pensare lanci un dado scegli compro vendo cosa fai cosa fai realmente che cosa fai il grosso problema è che le persone comprano perché hanno sentito l'analista hanno sentito la voce qui e lì il motivo per cui si svende quando si è sul mercato e si vende quindi in perdita è perché non si sa neanche il motivo per cui si è comprato se tu ora sei sul mercato e hai comprato bitcoin e adesso che sta scendendo il prezzo dici devo vendere dovrei svenderlo magari lo ricompro più basso cosa devo fare è perché non sai il motivo per cui l'hai comprato quello che dovrebbe interessare a noi non è questo non è questa roba qui ma è questo il motivo per cui ho comprato bitcoin ho scelto e non ho usato la parola a caso ho scelto di comprare bitcoin perché io vedo questo io sto vedendo questo nel lungo termine vedo il denaro che fa questo e vedo bitcoin che fa questo e questo è il motivo per cui ho deciso di comprarlo non che ora qui sta scendendo qui oh guarda qua si si inverte oh guarda qua qua c'è un hammer oh qua c'è qui no 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 ho scelto di posizionarmi perché credo che sia un asset che ha del valore se credo che quell'asset abbia del valore vuol dire che lo scelto si presume che abbia un valore perché un cretino compra un asset che crede non abbia valore no ora in questo contesto se ci si aspetta che abbia un valore si compra si attende con pazienza facendo bene i conti in tasca e posizionandosi con veramente intelligenza finanziaria perché è questo che serve serve solo un minimo di intelligenza finanziaria che non vuol dire essere andati alla bocconi a che cavolo ne so semplicemente significa farsi bene i conti in tasca di quello che si è disposto a investire a rischiare quello che non si è disposto a rischiare crearsi un portafoglio senza dover pisciare fuori dal vaso cercando di avere di tutto il mondo partendo da un euro due euro mille euro quello che è ma con i piedi per terra posizionarsi è un passo alla volta se tieni i piedi per terra arrivi lontano scelta comporta un risultato chi ha scelto di essere con i piedi per terra e essersi iscritto qui al canale e aver ascoltato determinate cose adesso non sta piangendo entra nel gruppo telegram entra nel gruppo telegram ti lascio qua sotto il link e guarda chi mi sta seguendo come si trova in questo momento è vero siamo tutti in rischio però io sono entrato in diversi gruppi e in diversi gruppi vedo panico devo svendere cosa faccio cosa non faccio vedo nel mio gruppo che si sta chiedendo a che livello ricompriamo come siamo messi cioè stiamo parlando di questo scenario è questo è questo che bisogna avere in mente quando si investe non buttarsi a caso sulle meme coin o su quello che è cerchiamo di essere onesti con noi stessi e io volevo che l'analisi di oggi come vedi non siamo stati tanto a sottolinare grafici cose varie perché l'analisi è invariata cioè quella che avevamo già fatto e la facciamo da mesi è da mesi che parliamo di queste cose qui non c'è nulla chi mi segue lo sa di cui essere oddio spaventati o da essere presi così alla sprovvista è roba di cui parliamo da mesi quello che interessa quello che mi interessa tanto è passare i concetti dietro le analisi cioè quello che in questi 40 minuti cercherò poi di tagliare un po' di pezzi magari per renderlo più fruibile però volevo passarti in questa mezz'ora insieme dei concetti che ti aiutino se sei in ritardo in questo ciclo magari nei prossimi quindi magari nelle prossime bull a posizionarti in modo diverso perché ricordiamoci che gli errori sono errori fin tanto che noi li chiamiamo errori e non lezioni da imparare quando noi inizieremo a chiamare gli errori lezioni inizieremo ad imparare da quegli errori e ragazzi vinciamo comunque perché o si vince o si impara sono due le cose è inutile che ci buttiamo giù abbiamo fallito abbiamo perso tutto siamo dei cretini basta no perché perché bisogna chiedersi e come posso migliorarlo cosa avrei dovuto fare e questa è l'analisi che bisogna fare è molto più importante fare questa analisi sui propri errori piuttosto che tracciare medie mobili e cazzate varie sui grafici è molto più importante questa è questa l'analisi quella che porta soldi è questa lo so che non è non ha lo stesso appeal questo video non avrà lo stesso appeal del classico fuffa analista che cavolo ne so che ti dice ho tracciato questo indicatore vinci sempre fai trading fai scommetti fai quello che ti pare ovvio che non avrà lo stesso appeal perché? perché qua io ti piglio a schiaffoni in faccia dicendoti no comprato Memecoin boom hai comprato i top boom pensi di poter comprare il bottom boom e boom boom e continuo così perché l'importante è che tu sia sveglio tu devi essere sveglio e comprendere come sta funzionando il mercato e in base a quello in base a quello che leggi dietro le righe non sulle candeline che vanno su e vanno giù lasciamole i complani le candeline leggiamo dietro i dati macroeconomici leggiamo come si sta muovendo la liquidità leggiamo il debito leggiamo che cosa fanno le persone sondiamo l'interesse analizziamo questo analizziamo il nostro compartimento di rischio analizziamo il nostro portafoglio e in base a quello passo dopo passo in modo realistico ci posizioniamo that's it così funziona la finanza investire è facile basta sapere come farlo qui trovi tutto per farlo con questo video direi che è tutto ti ringrazio tanto per essere stato qui con me se non ti sei ancora iscritto al canale qui trovi un'icona iscriviti cliccala iscriviti al canale così rimani aggiornato in tempo reale su quello che succede sul mercato se vuoi essere ancora più velocemente aggiornato entra nel gruppo chat telegram è gratuita ti lascio il link qua non chiedo sodio non chiedo nulla ti condivido informazioni in cambio di che cosa del tuo tempo per ascoltarle questo è l'unico prezzo che paghi il tuo tempo per imparare e per ascoltare fine quindi entra nella chat e ascolta analizza commenta possiamo scriverci rispondo sempre a tutti cerco di essere il più disponibile possibile perché voglio veramente veramente che si crei comprensione di queste dinamiche perché se ho imparato delle cose me le tengo per me e divento ricco io ok e quindi non crei valore per gli altri io voglio che questo che sto imparando quello che ho imparato e quello che imparerò perché c'è sempre da imparare sia riportato alle persone quindi che sia riportato in termini di valore là fuori sul mercato e io sto cercando di trasmetterti questo valore ti sto tendendo la mano afferrala e partiamo tutto qui questo è quello che bisogna fare di nuovo un abbraccio ti ringrazio per sei stato qui con me mi raccomando investi consapevolmente e ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo Grazie.